I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifri. In base al DMC numero 145 del 2003 2006 e alle delibere AGCOM 2608 CIR e 1504 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Guarda, guarda anche tu, guarda l'Otto News Eccoci! Buongiorno! Eh sì, ma soprattutto buon inizio di mattinata perché sono le 6 del mattino. Eh sì, questo è un nuovissimo appuntamento con voi amici di Sette Gold. In realtà l'Otto News è già partito venerdì scorso alle ore 20 e i nostri appuntamenti saranno sì, sempre alle ore 14, alle 20 in diretta con voi ma abbiamo pensato di passare più tempo con voi, di svegliarci insieme a voi tutte le mattine, da lunedì al sabato ci vedrete dalle 6 alle 7. Eh, ma non sarò da sola a svegliarci, a svegliarci insieme, a bere il caffè anche insieme magari in qualche mattina. Lui, il nostro grande mitico Walter, al quale do un grandissimo saluto, buongiorno! Buongiorno! Buona giornata innanzitutto a te e a voi amici da casa, bentrovati. Oh, piano piano alzeremo anche il tono della voce perché sono esattamente le 6 e qualche minuto. Bentrovati e la voglia davvero di svegliarci con il piede giusto. Un grazie davvero perché insomma ci state seguendo sia tutti i pomeriggi che le sere e poi con l'estrazione che arriva in diretta e cominciare appunto dando il buongiorno a chi magari in altri punti orari della giornata non ci può seguire. E' comunque un bello appuntamento per cui grazie davvero, ci auguriamo che siate in molti e che soprattutto diventi piacevole cominciare la giornata con noi. Lo vogliamo fare all'insegna di un po' di allegria e infatti Sheila è proprio bandiera d'allegria perché la conoscete perfettamente con la sua fortissima energia. E poi avremo i consigli, i consigli per entrare in gioco. Tra l'altro oggi è proprio un battesimo perfetto perché questa sera, peraltro, inauguriamo il mese di maggio con la prima estrazione, la vogliamo inaugurare nel migliore dei modi andando un po' di qua e un po' di là, tra numeri, curiosità, magari qualche canzone e scoprire anche che giornata sarà per ognuno di noi. E quello è un volto compito. Esatto, esatto caro Walter, hai un po' introdotto che cos'è l'Otto News, ci saranno anche tante informazioni e soprattutto anche oroscopo. C'è da dire che magari molti di voi insomma all'oroscopo non ci credono, c'è chi invece anche solo per curiosità, quando si sfoglia una rivista, l'occhio cade un po'. Cioè, vediamo oggi che cosa dicono del mio segno. Io non riesco a non guardare. Poi c'è chi ha magari l'astrologo proprio insomma che è preferito, che viene seguito da sé. Sì, poi ci sono oroscopi particolarmente preferiti, almeno io ne ho uno, e quello, il nostro, secondo me, sarà veramente il più preferito d'Italia, non potete perderlo. Perché noi abbiamo un oroscopo speciale e particolare, perché è curato con grandissima cura dalla misteriosa Sabella Sibilla. E qua è un po' un quesito che ci chiediamo insieme anche con Walter. Sarà il nome o sarà il cognome? Chi lo sa, poco importa, l'importante è insieme a voi tutti i giorni scoprire come sarà la nostra giornata. E allora partiamo con i primi tre segni dello zodiaco? Yes! Partiamo con l'ariete? Col mio? Con quello di Walter. Dunque, attenzione, il consiglio di oggi da Sabella. Prendete al volo l'occasione che vi offrono. Niente ripensamenti. Numero 72. Hai capito? In effetti l'ariete sembra testardo, sembra molto forte, però è pieno di dubbi. In effetti la nostra Sabella, le devo dare ragione, occasione da prendere al volo? Io l'ho presa, sono qua. Prima o poi arriverà anche lei. Invece io prenderò al volo il consiglio per me, perché io sono del Toro, quindi amiche amici del Toro, sentite cosa consiglia la nostra astrologa Toro. Aprite un libro a caso e leggete la prima riga di pagina 45. Ci troverete un'interessante indicazione. Peraltro il Toro ha il sole proprio nel suo segno in questi giorni, è il tuo, tra l'altro. Che porta una bellissima sferzata di energia e il Toro si deve dare da fare perché si aprono tantissimi ventagli nuovi. Forza! Speriamo, ce l'auguriamo. Il numero per il Toro è il 54. Terzo segno, passiamo a quello dei gemelli. Giornata movimentata, ma alla fine una piccola piacevole sorpresa vi aspetta. Ah, che meraviglia! Dai, dai, numero 89. Ah, cantichiamo qua. Abbiamo una canzone, Finchè la barca va, della grande Orietta Berti. Eh, sì. Mitica. Un giorno disse il grillo alla formica. È quello che dobbiamo fare noi, amici, è non sperperare quello che veramente di prezioso possiamo avere perché la barca va e questa sera la barca ci può portare veramente in un porto di vincite. Sì. I prossimi segni, ricordiamo che saranno Cancro, Leone e Vergine. Ne andremo in ordine, ovviamente, dal primo al dodicesimo segno zodiacale. Una bella puntata mattiniera, quella di tutti i giorni. Ricordiamo che abbiamo debuttato con l'appuntamento del mattino proprio oggi, martedì, perché ieri comunque, primo maggio, era festa per quanto riguarda l'orario del mattino perché ricordo che l'Otto News è partito già venerdì scorso con te, Arianna, alle 20 su 7 gold. Sì, sì, sì. Bene, dai, sarà un nuovo super mega appuntamento, anche quello del mattino ne sono molto molto sicura. Soprattutto, cara Scela, il pezzo forte di Lotto News è la redazione. Una redazione che vuole veramente scatenarsi con la massima attendibilità e con uno studio veramente importante, fatto bene, fatto con rigore, con metodo, su quello che poi è il gioco del lotto che ci porta a dei risultati concretissimi se semplicemente lo sappiamo affrontare con la giusta dose di prudenza e con la limitatezza di veri consigli ponderati fino alla fine. E abbiamo una redazione, amici, che questa sera ci vuole veramente portare un enorme in bocca al lupo. Io direi di andare in redazione perché allora lì apriremo veramente il festival di questa giornata che stiamo aprendo insieme con una sola voglia. Questa sera si brinda. Venite con noi. Ed eccoci, amici, eccoci qua appunto in redazione dove andiamo proprio a portarvi i frutti migliori di quello che è Lotto News, ovvero i consigli per questa sera. E peraltro, amici, siamo su una estrazione importantissima. Vi chiederete perché? Perché è la prima del mese. Beh, amici, il mese di aprile lo abbiamo concluso sabato sera alla stragrande. È stato un mese di aprile, peraltro, non con vincite casuali, ma proprio con una corsa alla vincita di colpo in colpo, vincite che si sono appunto verificate ad ogni estrazione. E allora, come vedete, noi qua abbiamo una direttiva grafica che vi porta a quello che è il piatto forte dell'899 599 555 che diventa il nostro numero di telefono porta fortuna in assoluto, ma c'è ancora di più, amici. Allora, partiamolo proprio da qua. La piramide della paura. Ma questa mattina, amici, non c'è da aver paura. Forse c'è da aver paura a non entrare in ricevitoria e poi ritrovarsi con un'estrazione, quella di questa sera, senza averci voluto puntare anche solo che un semplicissimo euro. Amici, ricordiamoci che la prudenza non è mai troppa nel gioco, quindi qualunque gioco, va sempre affrontato senza sperare nei miracoli, però sapete anche molto bene che insomma il gioco dell'8 è un gioco fantastico che dal 1939 ad oggi appassiona, proprio perché è l'unico gioco sul quale con metodologia, con razionalità, possiamo andare appunto a gestire con testa quelle che sono le nostre puntate di gioco. Allora, amici, quella di questa sera è la prima estrazione del mese. Perfetto. Lo apriamo, la apriamo, apriamo questo mese di maggio con il 90. E, amici, non è casuale l'arrivo di un 90 che lo comunichiamo apertamente, lo andremo a giocare su una ruota alta. Io ho un po' il divieto di parlare troppo, però è sicuramente un 90 fortissimo, lo dimostra proprio l'ultimo quadro estrazionale che abbiamo avuto sabato sera. Signori, attenzione, il 90 nel mese di aprile è stato davvero il numero porta fortuna in assoluto, è stata la miniera che ci ha permesso davvero di andare di colpo in colpo a suon di cedolini a tamburo battente. Questa sera giochiamo un unico 90, lo mettiamo in gioco su una sola ed unica ruota secca e stop. E, signori, giochiamo innanzitutto l'ambo d'oro. Una piramide, amici, una piramide di fortuna che parte appunto dalla sua punta. L'ambo bomba, il terno a tre numeri e addirittura la quaterna da sviluppo. E, signori, una quaterna, non illudiamoci che cadano le quaterne con facilità, eh. Lo diciamo sempre, lo dico sempre perché non vogliamo assolutamente così imbonire nessuno. Però le quaterne possono arrivare. Noi qua abbiamo uno studio per ambo, terno e quaterna secca. Signori, una quaterna con soltanto 50 centesimi, ma può portare 60 mila euro. Ed è ambo, terno e quaterna, pilotati appunto da questo straordinario 90 che giochiamo a ruota unica. Ma non solo, amici, per questo appuntamento noi abbiamo lavorato fino alle prime ore. Veramente, era alle 12 e mezza quando ci siamo poi sentiti con Fabio Galetti. Ci siamo dati gli ultimi ok per entrare nelle vostre case stamattina con il massimo. Attenzione alla ruota di Venezia, perché alla ruota di Venezia abbiamo una situazione che ci porta a giocare un solo ed unico ambo. Un vero e proprio ambo bomba. Non c'entra nulla al 90, non c'entrano nulla i numeri che possono sembrare così impegnativi o semplicemente molto amati. Ma abbiamo un ambo a due numeri, un vero e proprio ambo bomba. Signori, un ambo a ruota secca con un solo euro ne paga 250. È un bel giocare. E infine, amici, attenzione perché la corsa dei centenari specie con questa prima estrazione del mese potrebbe veramente dare una sorpresa fantastica. Amici, per quanto riguarda i centenari ricordiamo sempre che la giocata d'ambata a noi non piace troppo perché inseguire un'ambata per troppi colpi non diventa conveniente. Non diventa conveniente avere un'ambata da investimento perché rischiamo di correrle dietro. I ritardatari con Lotto News li andiamo ad affrontare nella loro semplicissima giocata per ambo secco, l'ambo più forte che risulta e il terno a tre numeri. Per cui, amici, mi raccomando, lo vedete, 899-599-555, questa mattina è il vostro buongiorno più ricco che esista perché abbiamo per l'estrazione di questa sera un 90 a ruota unica, lo ripeto, ruota unica per il 90 e il 90 nel mese di maggio riparte proprio da qua con un solo ed unico ambo, il terno a tre numeri e addirittura l'acqua terna da sviluppo. Abbiamo per la ruota di Venezia, prima estrazione del mese, amici, Venezia risponde, il più delle volte risponde a colpo e quindi non possiamo non tentarla, Venezia con un solo ed unico ambo secco a due numeri. Signori, è un bel portafortuna e infine, sempre con un solo scatto, senza spendere un centesimo in più, l'indicazione per quello che potrebbe essere il centenario che questa sera inaugura l'estrazione di maggio. Allora amici, mi raccomando, noi siamo in diretta con voi, vedo che peraltro già in molti siete svegli e siete già in molti all'ascolto dell'899 599 555, ma adesso allora chiamiamo veramente tutti. Questa, signori, è semplicemente l'inizio, è la piramide della paura, quindi questa bellissima giocata inerente il 90 non è l'unica giocata che trovate all'899 599 555, ma abbiamo, lo ripeto, 90 per ambo eterno e quaterna, ambo bomba per la ruota di Venezia e il centenario che potrebbe inaugurare questo mese di maggio che stiamo aprendo assieme. E allora io credo veramente che con un solo ed unico colpo di telefono possiamo dire abbiamo tra le mani un bel arsenale da andare a sbattere in faccia al banco per dirgli io stasera ti sfido, voglio vincere. Signori, noi siamo qua perché vogliamo vincere con tutti voi, come facciamo già con le dirette pomeridiane e serali e ovviamente allora ci rivolgiamo anche al pubblico magari dei lavoratori che al mattino escono di casa per andare a lavorare e si perdono appuntamenti che poi si confermano veramente appuntamenti strafortunati. Questo è il vostro e all'899 599 555 abbiamo tutto per entrare in gioco al meglio. Io direi di regalarci due minuti di musica, intanto la caffettiera fa cru 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 e ci porta sul caffè, ma assieme al caffè arrivano questi meravigliosi tre consigli di gioco che abbiamo ponderato. Signori, abbiamo un grande che veramente vogliamo salutare e al quale vogliamo dire grazie, una bellissima collaborazione che veramente ci dà modo di parlare di lotto con massima serietà. Salutiamo tutta la redazione di Lotto Corriere e il suo direttore Fabio Galetti. Amici, andiamo. Questa è la prima diretta per una lunga serie di vincite che vogliamo portare nelle vostre case. Ci vediamo tra poco. E ti svegli un mattino ed eccola qua Dalla finestra guardi fuori ma lo sai già Della pelle senti la febbre di sole e libertà Finalmente si dissolve in questa banale realtà Nel porto del mio cuore una nave aspetta già Scaricando colori e nuovi suoni, grandi vele di arcobaleni Ho il vento caldo nella testa Una voglia strana che protesta Una sua nuova dignità Finalmente si dissolve in questa banale realtà Vivere l'estate sai è una missione Bene eccoci siamo tornati Io stavo ascoltando Walter nel lanciare i consigli Te li ho sempre fatti i complimenti Te li ho infatti anche stamattina in questo nuovo appuntamento C'è chi magari si è appena svegliato Buongiorno 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 Ricordiamo questo nuovo appuntamento che è proprio partito da questa mattina Con gli amici di 7 Gold Dalle 6 alle 7 Dobbiamo fare un augurio speciale? Il 2 maggio? Chi? A tutti gli Antonino Ah Perché oggi è Sant'Antonino Guardate l'Antonaco Oggi è Sant'Antonino Quindi anche gli Antonio io mi immagino Vi dobbiamo salutare Augurare Antonio, Antonia, Antonina E come no? Un carissimo amico io di nome Antonio Grazie che me l'hai detto perché così poi li faccio gli auguri Sicuramente Sì auguroni Grazie grazie Walter di questo E allora adesso torniamo Torniamo e andiamo avanti con altri segni Perché ovviamente ognuno di voi ha il proprio segno Ed è curioso e aspetta il proprio Ebbene quarto segno dello zodiaco Cancro Per voi oggi una celebre frase domestica Non ti curar di loro ma guarda e passa Una frase domestica un po' dantesca Che in effetti ci sta soprattutto per i cancro Perché tanto sensibili voi cancro Però tanta sensibilità Che lascia un po' i nervi scoperti E a volte vi lasciate un po' ferire Passate e andate avanti Mi raccomando La nostra Sabella consiglia il numeretto 1 Per la giornata di oggi Per gli amici del cancro Passiamo al leone Il grande cerchio della vita Implica cadute ma anche risurrezioni Non abbattetevi e soprattutto Non lasciatevi abbattere Numero 69 69 E la canzone per loro è Ah In questo caso ragazzi Let it be Dei Beatles Ma io la lascerai cantare a te Ah grazie Sei te il cantante professionista Eh perché al mattino alle 6 e un quarto 6 e 20 la voce non c'è Dai che ce la siamo già iniziata A scaldare la voce Let it be Let it be Passiamo alla Vergine Non nascondete il vostro amore E sarete ricompensati Numero 33 Avete capito? Eh la Vergine nazionale Vorrebbe tutto quanto Vorrebbe dimostrare appunto Di essere sempre alla perfezione I sentimenti invece vanno vissuti Di petto, di pancia Anche a costo di pigliarci Ogni tanto qualche testata dentro Però ne vale la pena Oh un po' come ne vale la pena Entrare in ricevitoria Questa sera Eh amici Noi siamo qua Con tanta voglia di stare assieme Ma l'obiettivo poi diventa Concretissimo Nel momento in cui Sappiamo che Abbiamo tanti di voi Che entreranno in ricevitoria Per posare anche solo Che quell'euro secco Ma speranzoso di vederlo Lievitare bene Venite con noi in redazione Vamos Io vado eh Prima o poi dovrai venire anche tu Verrò Verrò a trovarti Secondo me sì Intanto ti seguo con gli amici Andiamo Andiamo in redazione Ed eccoci di nuovo qua amici Eccoci nella nostra redazione Il nostro punto di fuoco Perché è da qua appunto Che lanciamo i nostri consigli Più forti Per l'estrazione in corso Ne abbiamo già parlato Ma per chi si sta svegliando In questi minuti Ricordiamo che quella di questa sera Sarà la prima estrazione Di questo mese di maggio Che inauguriamo assieme Peraltro il mese di maggio È un mese di grande speranza È un mese Anche un po' dedicato all'amore È il mese dei matrimoni È il mese dell'amore È il mese della Madonna È il mese che noi vogliamo Sia il mese della fortuna Allora amici Allora amici L'899-599-555 Ci regala veramente Un trittico di consigli straordinari Su tutti Abbiamo voluto dare La pagina di presentazione A quello che consideriamo Davvero il consiglio più forte Il consiglio più importante Un bellissimo 90 Amici 90 che segue L'ondata vincente L'ondata fortunata Che nel mese di aprile Ci ha fatto incassare Un bel po' di soldini Anzi di soldoni Per questa sera amici Prima estrazione del mese Il 90 si candida Veramente a darci Una sorpresa Di quelle proprio a caldo Noi giochiamo Un unico 90 Su un'unica ruota Quindi giocate estremamente ristretta L'ambo bomba Quello proprio forte 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 Ve lo mettiamo in piena evidenza È ovvio amici Che vogliamo puntare anche al Terno Perché c'è una bella condizione da Terno Ma attenzione Io torno a ribadire Siamo in collaborazione La redazione di Lotto News Davvero si muove Per dare il massimo Coordinati E consigliati Ci scambiamo i nostri consigli Anche proprio con Fabio Galetti Direttore di Lotto Corriere Ambo Terno e Quaterna Per un 90 Proprio da paura Ma non solo amici Io torno a ribadire Che all'899 599 555 Il numero che state vedendo E che è liberissimo Da tutti i cellulari E tutti gli apparecchi di rete fissa Vi regala anche Senza il minimo costo aggiuntivo Quello che per questa sera Viene considerato proprio Ambo bomba Per la ruota di Venezia La prima del mese A Venezia Porta un ambo bomba Che il più delle volte Paga proprio a colpo Lo dobbiamo sfruttare Sfruttare è un bel biglietto Da visita Da 250 euro E poi signori Attenzione L'ultimo terzo consiglio Riguarda Il centenario Il numero in ritardo Che questa sera Potrebbe appunto Inaugurare maggio E portarlo A vincerlo In ambo Eterno Amici Io direi che È tutto quanto molto chiaro Tutto quanto molto schematico Giochiamo proprio Al minimo Perché è così Che bisogna fare Ma giochiamo ovviamente Per andare a vincere Il 90 Lambo bomba per Venezia Lambo il terno Con i centenari Avete tutto In questa mattinata Che stiamo Veramente Ci fa enormemente piacere Stamattina Rendersi conto Che siamo in diretta Con voi Nelle vostre case L'899 599 555 È un fulmine È un attacca e sgancia Di quelli veramente memorabili E soprattutto A poche ore di vita Perché questa sera Speriamo veramente Di cantargli La marcia funebre Perché? Perché vogliamo vincere A zerare i consigli E riandare Per quella che poi sarà La prossima estrazione Di dopodomani Amici Quindi mi raccomando Aggiornamento a colpo Per questa sera Io vi lascio Con due minuti di musica Di modo che possiate Prendere la linea Segnare i tre consigli E poi continuare a seguirci Fino alle 7 A tra poco E ti svegli un mattino Ed eccola qua Dalla finestra guardi fuori Ma lo sai già Della pelle senti La febbre di sole E libertà Finalmente si dissolve Questa banale realtà Nel porto del mio cuore Una nave aspetta già Scaricando colori E nuovi suoni Grandi vele Di arcobaleni Ho il vento caldo Nella testa Una voglia strana Che protesta Una sua nuova dignità Finalmente si dissolve Questa banale realtà Vivere l'estate Sai una missione Forse saranno tempeste In un bicchiere O nubi fragilenti Di passioni Che si perdono in un mare Di dolci delusioni Le mie inclinazioni Si fanno invenzioni Così che scherzi fa il sole Così che scherzi fa il sole Se poi scrivo sulla sabbia Può non aver significato Ma di sicuro è il segno Che davvero sono qua Non importa se poi il vento La mia presenza cancellerà Non ci sarà anche il sale Quando il miele dell'estate Svanirà Svanirà Resteranno granelli di zucchero Una scintillante Della filante Che pioggia e nebbia meno Duri renderà Si può riuscire a tenere Nel profondo del cuore Anche un solo raggio di sole E morire solamente un po' E morire solamente un po' Ma che scherzi fa Vivere l'estate Sai una missione Forse saranno tempeste In un bicchiere O rubi fragilenti O rubi fragilenti Di passioni Che si perdono in un mare Di dolci evasioni Le mie inclinazioni Si fanno invenzioni Vivere l'estate Sai una missione Forse saranno tempeste In un bicchiere O rubi fragilenti Di passioni Che si perdono in un mare Di dolci ambizioni Le mie inclinazioni Si fanno invenzioni Così che scherzi fa il sole Sole, sole Così che scherzi fa il sole Così che scherzi fa il sole E ti svegli un mattino Ed eccola qua Dalla finestra guardi fuori Ma lo sai già Della pelle senti La febbre di sole E libertà Finalmente si dissolve In questa banale realtà Nel porto del mio cuore Una nave aspetta già Scaricando colori e nuovi suoni Grandi vele di arcobaleni O il vento caldo nella testa Una voglia strana Che protesta Una sua nuova dignità Finalmente si dissolve In questa banale realtà Vivere l'estate Sai una missione Forse saranno tempeste In un bicchiere O nuvi fragilenti Di passioni Che si perdono in un mare Di dolci delusioni Le mie inclinazioni Si fanno invenzioni Così che scherzi fa il sole Così che scherzi fa il sole Allora siamo pronti per proseguire Con altri tre segni dello zodiaco Ma prima fammelo dire Perché dopo tanti tanti anni Insomma di esperienza In questo settore Sono veramente parecchi Over 20 È la prima volta Che lavoro in un studio televisivo Come questo Perché per l'Otto News È tutto completamente nuovo Per voi amici di Sette Gol Dove regia e studio È divisa solo da una parete di vetro Quindi io saluto Perché li conosco Da tantissimi anni Il mitico Diego Che mi sta già dicendo Che avevo leggermente Magari Toccava sulla collana Il microfono Quindi ciao Diego Ciao Valerio Ciao Osti Un grande saluto Al nostro producer Federico Beacco E al nostro GC L'autore che è qua in studio Con noi Senti io al mattino Eh sì Come dire la regia Vi vedo Ci vediamo Vi vediamo Che bello Io al mattino i nomi Li perdo tutti Eh beh Io perché li conosco da tanti anni Vedrai che ti entreranno Anche a te in memoria No ma io normalmente li ho Ma al mattino Sono ancora Così Nella mia nebbia Mi dica signora Allora Andiamo con i segni Poi so che volevi raccontare Anche una piccola aneddoto Anche perché So che tu è la mamma Del sagittario Con il sagittario Però andiamo in ordine È il momento della bilancia Ah questo è carino Pettine o spazzola Oggi non scegliete Nell'uno Nell'altro E lasciatevi andare un po' Sai che la bilancia Ha veramente Sto concetto della bellezza Che A volte È troppo Perché si lascia Non può condizionare Via di petto Amici e soprattutto Amiche Che siete bellissime Vai Sabella Sebilla Per voi consiglia Oggi il numero 58 Ma andiamo avanti Ah c'è anche la canzone E' bello E' bello sentire Walter cantare Dal vivo Scorpione 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 Ah attenzione Se oggi fate la spesa Scrivetevi per bene La lista E attenzione A non dimenticare la casa Oggi il vostro segno È dominato Dalla fata Smemorina Mi piace Oggi siete un po' così Perché lo Scorpione Di solito è perfettino Anzi dice Io Invece anche voi Sbagliate ogni tanto Quindi oggi Nodo al fazzoletto Per ricordarsi le cose Per voi oggi Il numero È il 4 Andiamo nel sagittario Segno della mamma di Walter Giusto? Ciao mamma Se sei sveglia Batti un colpo Perché oggi Io ti ho anticipato Come si chiama la tua mamma? Franca Franca Che bel nome Oggi per voi Un proverbio Tra i più classici Il mattino All'oro in bocca Giusto E il numero per loro È un numero Di cui tu hai già parlato Anche prima Eh ma allora Hai 90 Cioè mamma Cioè forza e coraggio Perché se tu questa sera Non giochi Non sei mia mamma Sappilo Quindi Ti disconosco Sai che mia mamma Mi viene in mente Che la prima diretta Che io ho fatto Da Genova Ero in uno studio Come questo E mi separava Dalla regia Un vetro Come quello che abbiamo Io ero andato in onda Di nascosto dai miei Perché i miei non volevano Erano un po' vecchia maniera Sai un po' bacchettoni Ma in tv Cosa ci vai a fare Ma io Figura di te Avevo voglia E allora sono andato E ho tolto tutti I canali Da casa Come vinto Che è Ma non potessi vedere Quel pomeriggio È andata dal gommista A fare la convergenza E il gommista Mi stava guardando Solo che Sulla piazzuola Non c'era E mia madre Va a bussare al gabbiotto E dice Oh c'ho bisogno Delle gomme Questo lo guarda E dice Signora ma c'è Su un figlio in tv E lei viene qua A farle Come c'è mio figlio in tv Io ho sentito La voce del regista Che risponde ad una telefonata E dice Ma come signora Su un figlio è maggiorenne Può andare E io ho detto Cazzarola ma già sgamato E ma sgamato E me ne sono accorto Tramite l'acquario Della regia Per cui chissà Che non arrivino sorprese Anche in questo caso Fammi salutare la tua mamma Mamma Franca Lei ha fatto comunque Un figlio fantastico È un bravo ragazzo È lì che ingrassa Deve essere orgogliosa E fiera di suo figlio Così è un bel mio parere Tra poco Gli ultimi segni Dello zodiaco Capricorno Acquario E pesci Tutto questo tra poco Perché adesso torneremo insieme A seguirti ancora Perché insomma È vero che siamo Al mattino Ed è presto Ma da qui alle ore 20 Poi la giornata vola E poi insomma Chi esce a lavorare Deve uscire con le idee chiarissime Primo passo Appena uscite di casa Tra un attimo Ok Ci sta È un vizio un po' di tanti Le sigarette Il biglietto della metropolitana Un pacchetto di caramelle Una puntatina all'otto Facciamolo Venite con me in redazione Che c'è da parlare Andiamo Vado? Vai Vado Ed eccoci qua amici E peraltro io voglio veramente Mandare un salutone a Roma E salutare Fabio Galetti Direttore di Lotto Corriere E ovviamente Tutta la redazione Beh Lotto Corriere È un must Per chi segue il lotto E per chi vuole appunto Avere tra le mani La vera rivista tecnica Di lotto Come va Vade Mecum Per muoversi un po' Su tutte le estrazioni È ovvio che noi vogliamo Ancora di più andare avanti Nel senso Con l'899 Che appunto vedete a video Che io ancora devo imparare un po' Bina memoria 899 599 555 Avete già tutto quanto pronto Ma ancora più ovvio amici è che Davvero I nostri consigli registrati qua Se li mettiamo anche a rapporto Con i consigli di Fabio Galetti Lotto Corriere La rivista in sé Potrebbe veramente diventare Un'abbinata esplosiva Ma partiamo proprio dall'899 599 555 Amici come vi dicevo Tra un attimo Quasi tutti Dovrete Uscire di casa Per recarsi al lavoro Facciamo un salto dal tabaccaio Facciamo un salto in ricevitoria Mettiamo almeno un euro Su questo 90 straordinario Abbiamo un 90 chiamato alle armi Per questo primo colpo di maggio Da giocare su una sola ruota Quindi Proprio strada semplice Un 90 Con l'ambo a due numeri Il più forte che c'è E quello Signori Vale un bel po' Perché è proprio L'ambo puro Evidentemente valutato Proprio per essere dato Come ambo puro Abbiamo una bella prospettiva Però su questo 90 Perché abbiamo un 90 Per ambo Ma è un gioco piramidale Sviluppato appunto in ambo Terno E quaterna Secca Mi raccomando Ruota unica Un 90 Veramente d'oro Poi Attenzione amici La prima estrategia del mese Con la ruota di Venezia Davvero ci fa sognare E non è davvero Un gioco di parole Perché Venezia viene spesso Associata No? Ai sogni A quello che è lo sviluppo cabalistico A volte di determinati segnali Che vogliamo interpretare Ma qua parliamo di statistica Parliamo di una ruota Quella appunto di Venezia Che con l'ambo bomba Della prima del mese Ha quasi sempre vinto a colpo Quindi signori Dove un euro Ha quasi sempre portato 250 euro Abbiamo fatto una statistica Amici E ve la porto chiaramente Nove volte su 12 Perché i mesi sono 12 Nove volte ha pagato a colpo Tre volte no Ma signori Nove volte a colpo Questo è il mese di maggio Lo inauguriamo con questo Super mitico Ambo bomba Appunto per la ruota di Venezia E poi Attenzione Ad un ritardatario Ritardatari Che noi non affronteremo mai È come ambatti semplici Perché lo lasciamo fare A chi vuole veramente rischiare E non è il caso Ma abbiamo un ritardatario Che mostra le unghie E sembra essere ormai pronto Ad uscire Lo giochiamo appunto Nella sua ruota di ritardo Quindi consiglio miratissimo Lambo E il terno A tre numeri Allora amici Semplice è Ma un solo colpo di telefono Provare per credere Può portarci Veramente a tanto Questa sera E saremo in diretta Con l'estrazione Per cui da lì Non scappa nessuno I dati sono quelli ufficiali Tutto quanto Estremamente trasparente Mi raccomando amici Con l'899-599-555 Come vedete Un solo codice Per poter offrire Davvero a tutti quanti voi Con un solo ed unico Scatto Telefonico Tutti e tre i consigli Senza pagare Nulla in più Io direi di andare Di andare con Ancora qualche secondo Di pausa Di modo che L'899-599-599-555 Parli al posto mio E vi porti soprattutto Il tutto in uno Che dobbiamo assolutamente Tentare per questa sera A tra poco E ti svegli un mattino Ed eccola qua Dalla finestra guardi fuori Ma lo sai già Della pelle senti La febbre di sole E libertà Finalmente si dissolve Per questa banale realtà Nel porto del mio cuore Una nave aspetta già Sgaricando colori E nuovi suoni Grandi vele Di arcobaleni Ho il vento caldo Nella testa Una voglia strana Che protesta Una sua nuova dignità Finalmente si dissolve Questa banale realtà Na 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 Vivere l'estate Sai Una missione Forse saranno tempeste In un bicchiere O nuvi fragilenti Di passioni Che si perdono In un mare Di dolci delusioni Le mie inclinazioni Si fanno invenzioni Così che scherzi Fa il sole Così che scherzi Fa il sole Se poi scrivo Sulla sabbia Può non aver significato Ma di sicuro È il segno Che Davvero sono qua Non importa Se poi il vento La mia presenza Cancellerà Non ci sarà Anche il sale Quando il miele Dell'estate Spanirà Resteranno granelli Di zucchero Una scintillante Della filante Che vi aggene Pià meno Duri renderà Si può riuscire A tenere Nel profondo Del cuore Anche un solo Raggio di sole E morire E morire solamente Un po' Ma che scherzi fa Vivere l'estate Sai Una missione Forse saranno Deteste In un bicchiere O rubi fragilenti Di passioni Che si perdono In un mare Di dolci Ambizioni Le mie inclinazioni Evasioni Le mie inclinazioni Si fanno Invenzioni Vivere l'estate Sai Una missione Forse saranno Teste In un bicchiere O rubi fragilenti Di passioni Che si perdono In un mare Di dolci Ambizioni Le mie inclinazioni Si fanno Invenzioni Così che scherzi fa il sole 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 Così che scherzi fa il sole Così che scherzi fa il sole E ti svegli un mattino Ed eccola qua Dalla finestra guardi fuori Ma lo sai già Della pelle senti La febbre di sole E libertà Finalmente si dissolve In questa banale realtà Nel porto del mio cuore Una nave Una nave aspetta già Scaricando colori E nuovi suoni Grandi vele Di arcobaleni Ho il vento caldo Nella testa Una voglia strana Che protesta Una sua nuova dignità Finalmente si dissolve In questa banale realtà Vivere l'estate E' una missione Forse saranno tempeste In un bicchiere O nubi fra gli lenti I passioni Che si perdono in un mare I dolci delusioni Le mie inclinazioni Si fanno invenzioni Così che scherzi Fa il sole Così che scherzi Fa il sole Se poi scrivo sulla sabbia Può non aver significato Ma di sicuro è il segno Che davvero sono qua Non importa se poi il vento La mia presenza cancellerà Non ci starà anche il sale Quando il miele dell'estate Svanirà Ah è bene E siamo arrivati Agli ultimi tre segni Dello giodiaco Quindi attenzione Se in questi tre Sta proprio arrivando Il vostro Che aspettavate Walter Parliamo del capricorno Indossate qualcosa Di rosso Perché vi darà Tanta energia È il colore della forza Noi non abbiamo nulla di rosso Io lo amo però Come colore È molto bello Anch'io Per voi oggi Il numero 60 consigliato Acquario La mia mamma Auguri Sì Trovate un po' di tempo Per voi stessi Dal momento Che siete sempre Al centro Di richieste Aspettative altrui Il numero 18 L'acquario si dà molto L'acquario È tosto Il fatto che è tanto energico Tanto volante Rischia di essere Veramente un po' Delle mani di tutti Calma Canzone La conosci Questa canzone Di Siddy Loper Eh ma io con l'inglese Sembro di Forlì No Gorgeous When I'm a fan Però io con l'inglese Molto bella Tu Sembri di Modena E quindi dobbiamo dire Lo prendo con un complimento E certo Le donne di Modena Oh e bacini Ci ha fatto una cazzina Che bella Stupenda Bravo Mi è venuto in mente Subito L'ultimo dei 12 segni Zodiacali Parliamo dei pesciolini Un sonnellino pomeridiano Oggi sarà per voi Un vero Toccasana Numero 39 Salutiamo mia sorella Pesci Ciao Te lo meriti Bacione Oh Sabella Sibilla Con i suoi 12 segni Zodiacali Ovviamente ritornerà Domani mattina Perché domani È un altro nuovo giorno Domani sarà mercoledì Oggi insomma Dovevamo rodare un po' Io e Walter Soprattutto per la sveglia E brava Sabella dice che Manderà un suo fotografico Ah Il nostro autore Ah ci sta seguendo Di me Non è microfonato Ci dice che È gelosa perché Ti ho la foto di Galetti Ah Ah La nostra oroscopina Chissà di che segno sarà Allora Gelosi Acquario Anche lei Come mamma Lucia Lucia tua mamma Sì Ciao Lucia Eh anche tu Oh La facciamo una mattinata Un rendezvous con le nostre mamme In che senso Mia madre la porto qua A impastare Una bella pizza Eh Con la cucina sempre Una bella focaccia Genovese Così fai felici tutti Me e i ragazzi dello studio Tua madre che cosa è forte Mamma è sarda E allora Coulour Jones Seada Le Seada Buonissime con il miele Allora è qua Insomma L'ora è terminata Carro Valter Quasi Fammi salutare gli amici Di Sette Gol Con l'Otio News Vi aspetto sempre domani mattina Ricordandovi che alle 14 o le 20 Siamo sempre con voi in diretta Ma da oggi Triplo appuntamento Vi lascio con Valter Ciao Grazie Cela Io allora torno Per l'ultimissima volta Con i saluti più fortunati Della mattinata Venite con me Redazione Ultimissima Inboccata Vai Ed eccoci amici Per l'ultima volta Purtroppo questa mattinata Abbiamo l'occasione Di portare Tanta fortuna Per la quale Abbiamo lavorato E ancora una volta Voglio salutare Fabio Galetti Poi lo vogliamo Al telefono Lo vogliamo sentire Un attimino Questa mattina Capite bene che È una diretta Importante Allo stesso tempo C'è volata un po' Tra le mani Amici ricordiamoci Che all'899 599 555 Un lavoro di squadra Quello di Lotto News Vi porta i migliori consigli Proprio per il colpo In corso Per le stazioni in corso Che arriva stasera E non c'è tempo da perdere Un Super 90 Un 90 che giochiamo A ruota unica In ambo Terno e Quaterna Uno splendidissimo Super ambo Bomba A ruota unica Parliamo di Venezia E Venezia La prima del mese Ve l'ho già detto Nove volte su 12 Durante quest'ultimo anno Ha pagato a colpo E sono solo due numeri Ed infine amici Ricordiamoci che questa sera Un centenario Potrebbe tirare il colpo Lasciarci lo zampino E noi ovviamente Ce lo vogliamo mangiare Nel migliore dei modi Lo giochiamo in ambo Eterno Amici Lotto nove nove Cinque nove nove Cinque 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 Per l'ultimissima volta Ve lo porto Con un enorme saluto Un enorme abbraccio Un grazie infinito Per esservi Svegliati con noi L'appuntamento è a domani mattina Quindi la sveglia Alle sei puntuali Ma adesso Corriamo in linea Per non perdere Questi tre consigli Validi per questa sera Grazie a tutti amici Un grazie di cuore E ancora una volta Buona giornata A domani E ti svegli un mattino Ed eccola qua Dalla finestra guardi fuori Ma lo sai già Della pelle senti La febbre di sole E libertà Finalmente si dissolve In questa banale realtà Na 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 Nel porto del mio cuore Una nave aspetta già Scaricando colori E nuovi suoni Grandi vele Di arcobaleni Ho il vento caldo Nella testa Una voglia strana Che protesta Una sua nuova dignità Finalmente si dissolve In questa banale realtà Vivere l'estate E' una missione Forse saranno tempeste In un bicchiere O luvi fragilenti Di passioni Che si perdono In un mare Di dolci delusioni Le mie inclinazioni Si fanno invenzioni Così che scherzi fa il sole Così che scherzi fa il sole Così che scherzi fa il sole Non importa se poi il vento La mia presenza cancellerà Non c'è starà Non c'è starà anche il sale Quando il miele dell'estate Svanirà Presteranno granelli di zucchero Una scintillante Della filante Che pioggia e nebbia meno Duri renderà Si può riuscire A tenere Nel profondo Del cuore Anche un solo Raggio di sole E morire Solamente un po' Ma che scherzi fa Vivere l'estate Sai Una missione Forse saranno tempeste In un bicchiere O luvi fragilenti Di passioni Che si perdono Che si perdono In un mare Di dolci E passioni Le mie inclinazioni Si fanno Invenzioni Vivere l'estate Sai Una missione Forse saranno tempeste In un bicchiere O luvi fragilenti Di passioni Che si perdono In un mare Di dolci Ambizioni Le mie inclinazioni Si fanno Invenzioni Così che scherzi Fa il sole 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 Così che scherzi Fa il sole Così che scherzi Fa il sole E ti svegli un mattino Ed eccola qua Dalla finestra Dalla finestra Guardi fuori Ma lo sai già Nella pelle Senti La febbre Di sole E libertà Finalmente si dissolve In questa banale realtà Nel porto del mio cuore Una nave aspetta già Scaricando colori Scaricando colori E nuovi suoni Grandi vele Di arcobaleni Ho il vento caldo Nella testa Una voglia strana Che protesta Una sua nuova dignità Finalmente si dissolve In questa banale realtà Vivere l'estate Sai È una missione Forse saranno Te feste In un bicchiere O rubi fragilenti Di passioni Che si perdono In un mare Di dolci delusioni Le mie inclinazioni Si fanno invenzioni Così che scherzi Fa il sole Così che scherzi Fa il sole Se poi scrivo Sulla sabbia Può non aver significato Ma di sicuro È il segno Che Davvero sono qua Non importa Seppo il vento La mia presenza Cancellerà Non ci sarà Anche il sale Quando il miele Dell'estate Svanirà Queste vanno Granelli di zucchero Una scintillante Stella filante Che pioggia E nebbia meno Duri Renderà Si può riuscire A tenere Nel profondo Del cuore Anche un solo Raggio di sole E morire E morire solamente Un po' Ma che scherzi fa Vivere l'estate Sai Una missione Forse saranno De feste In un bicchiere O rubi fragilenti Di passioni Che si perdono In un mare Di dolci Evasioni Le mie inclinazioni Si fanno Invenzioni Vivere l'estate Sai Una missione Forse saranno De feste In un bicchiere O rubi fragilenti Di passioni Che si perdono In un mare Di dolci ambizioni Le mie inclinazioni Si fanno Invenzioni Così che scherzi Fa il sole 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 Così che scherzi Fa il sole Così che scherzi Fa il sole E ti svegli un mattino Ed eccola qua Dalla finestra Guardi fuori Ma lo sai già Della pelle senti La febbre di sole E libertà Finalmente si dissolve In questa banale realtà Nel porto del mio cuore Una nave aspetta già Scaricando colori E nuovi suoni Grandi vele Di arcobaleni Ho il vento caldo Nella testa Una voglia strana Che protesta Una sua nuova dignità Finalmente si dissolve In questa banale realtà Vivere l'estate Sai È una missione Forse saranno tempeste In un bicchiere O nuvi fragilenti Di passioni Che si perdono In un mare Di dolci delusioni Le mie inclinazioni Si fanno invenzioni Così che scherzi fa il sole Così che scherzi fa il sole Se poi scrivo sulla sabbia Può non aver significato Ma di sicuro è il segno Che davvero sono qua Non importa se poi il vento La mia presenza cancellerà Non ci sarà anche il sale Quando il miele dell'estate Spanirà Resteranno granelli di zucchero Una scintillante Della filante Che pioggia e nebbia meno Duri renderà Si può riuscire a tenere Nel profondo del cuore Anche un solo raggio di sole E morire solamente un po' Ma che scherzi fa Vivere l'estate Sai una missione Forse saranno tempeste In un bicchiere O nuvi fragilenti Di passioni Di passioni Che si perdono in un mare Di dolci evasioni Le mie inclinazioni Si fanno invenzioni Vivere l'estate Sai una missione Forse saranno tempeste In un bicchiere O nuvi fragilenti Di passioni Che si perdono in un mare Di dolci ambizioni Le mie inclinazioni Si fanno invenzioni Così che scherzi fa il sole Sole, sole Così che scherzi fa il 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 sole Così che si riposto Là qui scherzi fa lì Così che scherzi fa il sole Così che la orta Tra l'estate E poi L'estate Conc지ata Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.